E' uscito Close, che era il marcatore di Cannavaro. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro, go! 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 Grosso! Grosso! Go! Conti Grosso! Conti Grosso! Conti Grosso! Manca un minuto! Manca un minuto! Conti Grosso! Conti Grosso! Conti Grosso! Incredibile! Incredibile! Siamo sopra e manca un minuto! Siamo sopra e manca un minuto! Gol di Grosso! Ancora sull'invenzione di Pirlo, molto bravo a trovarlo! Grande gol, grandissimo, bellissimo! Nulla da fare per Lehmann, non la vede nemmeno partire questa palla, ma non ci sarebbe mai arrivato, bellissimo! Teniamo ragazzi! Manca meno di un minuto! Oda ancora!